Buonanotte e benvenuti, ci ho messo 7 minuti e 50 secondi per connettere, bene apriamo il mio ordine, let's do it, ci sto, siete pronti? Marshtown hai trovato, bisogna fare in fretta a questo fiorellino, Genghis Khan e BOOM! Symbion! Stiamo sfruttando le promozioni, facciamola questa cosa! Zenit regale? Ok questa qua è quella che ho scelto io e chiaramente non avreste dovuto farla scegliere a me, sai che io sono di una sfortunata, di uno sfortunato assurdo. Paciam! Paciam! Snorant! Oh Riccario let's gooo! Kevin! Upa! Sad! I'm sad! Don't be sad! Don't be sad! quella lì non è una pinna, però va bene, va altrui! Mew! Oh! Regi Kaga sfiastro let's gooo! Kevin! Look at this artwork! Mew! Cikki! Scusate eh sono proprio... mi ha appena risposto, ciò capellina. allora.. Ma ciò.. Bittime, Psyduck, tengga tu. Tutti i nai ce li servono? Ok abbiamo Guzzly, Pokeball, generalmente non c'è pool, o comunque è molto raro e invece l'hai trovato. Hai trovato Wigglytuff EX Molto raro trovare un pool dietro una Pokéball Ma tu l'hai trovato Bella questa G2 Lictac Kakuna Fizzier Hypno Jigglypuff Pokéball Oh 2 su 2 ha fatto Blastoise EX E guarda bene il box, a modo di dire l'apprezzo comunque, ma devi guardare per il box e non per i pacchetti Cambiamo entrambi Buona fortuna Luca! Let's do it! Shining Amici di sui Metan Execute Lapiesc Imoka Yanma Ponyard Autoreverse Sword Rock Oh yes! Dejanvi Let's go! 35 euro di carta Non sapeva quanto valeva sicuro Magari non sapeva quanto valeva e l'ha legato al suo amico e tu non lo sapevi Inazuma Pichichi Kaiso Taralan La Shadow Blue Aramaiki Scrive in chat dopo le le lecce Lo vogliamo scrivere qua? Inup Pichichi Sangok Ratchet Oh mio Dio Mirko! Shanks Pianeta Pianeta Beh ma lo stai rifamando, se tu quando parli dici il vero sai che non hai difamazione? Rifamazione è quando tu cerchi di mettere in cattiva luce qualcuno. Ma se tu quando parli dici il vero non hai difamazione. Dici no, già no. Trovi di sabotaggio Rockruff Tangela Lottisca Oh! Requaza B-Max C'è di mascherare Bele Cioè Io non capisco come fa, ma non muestra il live Perfetto Spagna, risicila e vi vende le sole 12 Pec e sto uscendo e ora vedo il piede dalle Senza prove non puoi comunque accusare Non fa mai l'accusa che stai facendo le tue parole Stai parlando di quello che hai visto Oh! B-Barrel E Cabulele Il vecchio o la vecchia? Chi lo sa Pesatore di Pec mi rendete conto che tutte le volte che scrivete questa roba con qualcuno che magari non conosce entra e dice ma questo qua mi dico bene adesso voglio fare una carta di 151 da questo giocatore adesso voglio fare una carta di 151 dentro la ritorno ma che bella star work combatte contro barba nera bella bella Mirko shut up shut up let's go parla parla e poi alla fine let's go oh oh grazie per il follo simba quello quell'altro elettro bus butter free dino boom omalite alternative art non ci fermiamo più ormai è partita sei pronto clavio allora queste qua sono le waifu, lei è quella di Final Fantasy poi abbiamo la controllora del tram con la spada la diamo vessa ha la bellissima la ragazza questa qua è quella dei videogiochi risaputa, riconosciuta, questo quanto ho anche pullato ma non ci credo hai trovato la ragazza con i fiori come pull ha anche pullato splendide artwork nelle waifu splendide 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 eh ecci qua, va bene signori abbiamo fatto una notte delle buonanotte io vi ringrazio tutti per la seguente anche questa sera noi ci vediamo come sempre domani a partire dalle 20 e oh oggi è l'ultimo gioco di promozioni e meno male veramente mi avete finito quasi tutto l'unica cosa che mi è rimasta è il destino di Patea che probabilmente sarà l'unico set che vi lascerò in sconto perché ho una cosa con 400 pacchetti che basta va bene, ciao a tutti, bacio a domani grazie a tutti